Benvenuti in questa nuova live di Deepen, io sono Zap e oggi siamo in live a un orario un po' inusuale, ma il problema è che sono un po' incasinato in questi giorni, quindi stasera avrò un impegno familiare, quindi non posso andare live al solito orario e questa settimana sono piuttosto incasinato. Quindi oggi facciamo una live un po' anticipata, quindi se qualcuno riesce a seguirmi in live molto bene, altrimenti potete tranquillamente downloadare questa puntata dopo la fine della puntata stessa, quindi come al solito su Spotify, Apple Podcast eccetera eccetera. Vedo già felicemente che sono in live sia Luca che Sofia, quindi vi ringrazio, vi faccio un saluto. È arrivato anche Edward, che bello avere il gruppo di Deepen VIP e oggi siamo in live soltanto su Spreaker, quindi non ho acchittato tutta la roba per fare Twitch per diversi motivi, principalmente perché è da qualche settimana che l'applicazione che utilizzo come webcam, mi fa un po' le bizze e quindi tutte le volte devo stare in ansia che poi parte il video, perdo un quarto d'ora a sistemarlo e ho deciso oggi che non ne avevo voglia. Secondo perché così posso fare la live in mutande senza che nessuno mi dica niente e soprattutto facendo la live in mutande su Twitch avrei avuto il rischio di provocare qualche infarto tra il nostro pubblico femminile a causa dell'addominale basso che chiaramente è prorompente, quindi manderò delle foto esclusive soltanto ai Deepen VIP, Deepen VIP che si sono accaparrati la possibilità di farsi chiamare appunto VIPs perché hanno donato e hanno creduto in Deepen, non solo in Deepen Scienza ma anche in Deepen Giallo, Deepen Crimini e tutti gli altri Deepen. Quindi intanto saluto Matilde, Maria, Lucrezia e tutti quanti e appunto pagando un fantastico Patreon. Per tutti gli altri invece che dovranno soltanto sognare il mio addominale basso, Occhiai e Sofia tantissime ne abbiamo perché stanotte non ho dormito minimamente quindi anche quelle avrete una foto esclusiva sui VIP. Per tutti quelli che invece ritengono che queste 150 ore di contenuto di qualità di Deepen non siano sufficienti neanche fare una donazione da 2 euro, sappiate per voi Mazzarò che potete supportare Deepen anche in modo gratuito. In modo gratuito come? Molto semplice, potete o andare sul nostro sito e scoprire tutte le fantastiche possibilità che avete appunto per sostenerci, gratuitamente anche ragazzi, gratuitamente, ve ne dico solo un paio, se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente al nostro canale di Twitch, così da vedere l'addominale basso e la bella faccia di palla quando fai live. Ma non solo perché se non volete appunto darci un sostegno economico potete benissimo andare a condividere le nostre puntate, che ci aiuta sempre a trovare nuovi ascoltatori e quindi in qualche modo ci aiuta anche a sostenerci, oppure potete banalmente fare una fantastica recensione su Apple Podcast così che tutto il mondo scopra quanto è bello Deepen Scienza. Ciao Dora, direi oggi di iniziare con la puntata, a parte queste vaccate. Mi sono totalmente scordato di cosa volevo parlare oggi. Ah no, oggi parliamo di alcolismo. Oggi parliamo di alcolismo perché... Ah no, innanzitutto scusate, un'altra premessa velocissima, poi cominciamo, che vi ringrazio perché la puntata sull'igiene è andata molto bene, non solo per quantità di ascolti, diciamo lievemente superiore alla media, ma anche, anzi soprattutto, per il tasso di abbandono che è stato bassissimo. Praticamente tutti quelli che hanno aperto la puntata, ricordiamo numero più alto rispetto al solito, ha ascoltato tutta la puntata. Quindi vi ringrazio, sono contento che vi sia piaciuta e speriamo che questa puntata non sia da meno. Oggi, dicevo, parliamo di alcolismo perché voglio iniziare la miniserie a proposito della psichiatria e so che vi aspettavate di sentire di mirabolanti malattie strane e particolari. Non oggi, arriveranno anche quelle. Vi tengo un po' sulle spine perché ho notato che psichiatria è una materia più complessa di quanto ricordassi e quindi ho bisogno di un po' di tempo per entrare nel mood e ristudiarmela un po' meglio per approfondire certe tematiche, perché non voglio banalmente dire vaccate. E inoltre avevo in scaletta, fin praticamente dall'inizio di Deep in Scienza, l'idea di fare appunto una puntata a proposito dei falsi miti sull'alcol. In parte qualcuno l'ho già spoilerato in vecchie puntate, ma oggi ne parliamo proprio in modo approfondito. Quindi parliamo di alcol, alcolismo e uso e abuso di alcol. Quindi cosa succede? Direi subito di iniziare perché c'è tanta carde da mettere al fuoco. Come al solito, se riuscite, mandate il link sul gruppo che mi fate un gran favore. E intanto io vi racconto che l'alcol è uno, forse il principale fattore insieme al fumo e all'obesità. Quindi è tra i tre principali fattori di rischio correlati alle principali cause di morte nel mondo occidentale. Non solo nel mondo occidentale, in realtà anche nel mondo orientale, quindi possiamo dire nel primo mondo. Allora, per questa puntata però non voglio fare, come dire, quello che si accanisce sull'uso dell'alcol. Ho, diciamo, un'idea abbastanza libertina dell'uso dell'alcol, nel senso che, secondo me, è parte integrante della nostra società, quindi non voglio dire che è il male assoluto. Dico solo che, chiaramente, ha delle interazioni con il nostro corpo che possono portare poi a delle malattie e quindi questo è bene conoscerlo. Sono, per esempio, molto più a favore dell'uso moderato degli alcolici piuttosto che delle sigarette, dato che quello è veramente un vizio idiota, mentre trovo l'alcol particolarmente ben integrato nella nostra società, ma poi diciamo che parliamo anche di questo. Quindi questo pippone è per dirvi che non sempre l'utilizzo di alcol è correlato a un abuso. Infatti c'è un consumo che è accettabile, o perlomeno nella nostra società è accettabile, e vedremo dopo che in realtà ci sono società in cui è accettato proprio in modo diverso l'utilizzo dell'alcol, e poi bisogna fare una distinzione tra l'abuso e la dipendenza. Prima di parlare di tutti questi aspetti, però, voglio raccontarvi un po' che cos'è l'alcol. So che sembra banale, ma non è così, perché molto banalmente tutti gli alcolici condividono la stessa molecola, quindi che noi parliamo di birra, di vino, di brandy, di qualsiasi roba del genere, di qualsiasi alcolico, parliamo sempre dell'etanolo. Bevo un secondo un sorso d'acqua e proseguiamo. Dicevo, parliamo sempre dell'etanolo. L'etanolo, infatti, è, possiamo dire, l'unico alcol che siamo in grado di digerire. Siamo in grado di digerire questo tipo di alcol perché l'essere umano si è evoluto a farlo, quindi era una necessità metabolica dell'essere umano riuscire a digerire l'alcol. Questo molto banalmente perché la frutta che, diciamo, l'uomo di Neandertal trovava in giro, in molti casi poteva essere andata male. Quindi i frutti tendono a produrre una fermentazione alcolica che produce quindi etanolo. E quindi era indispensabile per l'essere umano riuscire a mangiarli senza stare male. Non siamo gli unici animali che sono in grado di metabolizzare l'alcol e neanche siamo gli unici animali che fanno abuso di alcolici, tant'è vero che, per esempio, gli elefanti sono ghiottissimi di alcol, gli piace tantissimo. E vi faccio un grande disclaimer, non cercate assolutamente elefanti ubriachi su YouTube perché trovate dei video esilaranti che vi faranno assolutamente perdere e buttare una giornata intera o, se volete, fatelo in un giorno di vacanza perché è la cosa più divertente del mondo. Quindi gli elefanti, per esempio, sono abbastanza intelligenti da capire, forse non tutti i concetti della fermentazione alcolica, ma hanno capito che si può lasciare della frutta abbandonata per recuperarla in seguito, per produrre alcolici. E quindi sono soliti prodursi l'alcol in questo modo e poi berlo e sbronzarsi. Si dice in italiano? Non lo so. Vabbè, ci siamo capiti. Sono talmente ghiotti di alcolici che, nei paesi dove chiaramente sono presenti gli elefanti, molto spesso ci sono stabilimenti che producono alcolici, che subiscono attacchi da parte degli elefanti, che proprio vanno lì a sbronzarsi. Ora, l'alcol è, anzi, l'etanolo ha certi effetti sul nostro metabolismo. Innanzitutto va detto che gli alcolici che beviamo vengono assorbiti in parte dallo stomaco e in parte nell'intestino. Dallo stomaco l'alcol passa direttamente nel nostro sangue e quindi ci dà quel senso inebriante, un po' che ci dà il senso di ebrezza, non inebriante. Oggi parlo a caso, sono un po' stanco, scusate. Ci dà il senso di ebrezza. Mentre invece parte dell'alcol, abbiamo detto, circa l'80% in realtà dell'alcol che ingeriamo finisce nel nostro intestino per poi essere assorbito e c'è una forte differenza tra il 20% che viene assorbito dallo stomaco e l'80% che invece viene assorbito dall'intestino. Questo perché l'alcol che passa dallo stomaco finisce direttamente nel nostro sangue e, come detto, ci sbarella il cervello. Mentre l'alcol che passa nel nostro intestino, diciamo, a causa della struttura del nostro sistema venoso, prima di entrare nel nostro circolo sanguigno, passa attraverso il fegato. Questo è fondamentale perché attraverso il fegato viene metabolizzato e quindi inibita la sua funzione di, come dire, inibitore, anzi disinibitore sociale. Però ci dà degli svantaggi in questo caso perché ci porta a avere un aumento delle calorie che ingeriamo senza nessun vantaggio reale, nel senso che l'alcol in questo caso non porta alcun tipo di nutriente utile ma ci fa soltanto ingrassare. Perché è importante inoltre questa questione del fegato? Perché in realtà anche lo stomaco possiede degli enzimi in grado di metabolizzare l'alcol ma in quantità molto basse e molto poco efficienti mentre dall'interno del fegato ci sono gli enzimi proprio atti a demolire l'alcol e portarlo ad altre sostanze per poi essere eliminato tramite appunto questi enzimi che il primo enzima è l'alcol di idrogenasi che non vi sto raccontando perché dovrete andare a dirlo all'esame ma perché è importante al fine della puntata e dopo vi sarà chiaro il perché e l'alcol di idrogenasi porta appunto l'alcol ad acetaldeide poi dall'acetaldeide abbiamo l'acetaldeide di idrogenasi che promuove la formazione di acido acetico che poi viene eliminato. Perché è importante sta roba? Perché l'acetaldeide è una sostanza fortemente tossica e non vi spoilere adesso il perché ma sarà importante dopo quindi tenete a mente l'acetaldeide. Inoltre possiamo dire che la parte che viene ad essere assorbita dallo stomaco va anche a danneggiare lo stomaco in due componenti principali. Uno è lo strato mucoso che protegge lo stomaco dalla sua stessa acidità e questo fa sì che poi ci sarà un malassorbimento di tutta un'altra serie di sostanze nutritive ma anche per esempio si possono provocare dell'ulcerazione all'interno dello stomaco e inoltre ci sarà una riduzione della produzione di una proteina fondamentale che si chiama fattore intrinseco di Kassel. Il fattore intrinseco di Kassel è una proteina che è indispensabile all'assorbimento della vitamina B12. Vitamina B12 che se ricordate qualche vecchio puntato di Pencienza è una vitamina di cui sono molto carenti le persone vegane. è una vitamina che viene assunta tramite la carne e che è fondamentale per la nostra sopravvivenza e quindi molto spesso gli etilisti sono carenti appunto di vitamina B12 ma non solo per il motivo che vi ho detto prima anche di vitamina B1 che è appunto passa, il suo metabolismo passa dallo stomaco. Adesso finito questo un po' pippone biochimico per quelli di voi che hanno resistito vi parlo di alcune curiosità a proposito dell'alcol dopo capirete perché vi ho parlato appunto della biochimica dell'alcol. Alcune curiosità dell'alcol per esempio sul perché quando bevo dei alcolici ci viene da fare tanta pipì. Allora questo avviene per due motivi principali. Il primo motivo è che l'alcol è un ottimo vasodilatatore quindi che cosa vuol dire? Il vasodilatatore vuol dire che i vasi sanguigni periferici del nostro corpo per esempio su mani, volto, si dilatano ma non solo quelli periferici anche i vasi che portano il sangue ai reni. Una vasodilatazione renale provoca un aumento della filtrazione glomerulare renale quindi più sangue viene filtrato attraverso i reni quindi viene prodotta più urina. Matilde dice è stata parte del mio esame questa roba sì perché fa parte appunto della fermentazione alcolica roba divertentissima di biochimica che non sto a raccontarvi. Quindi è un vasodilatatore e questo spiega anche il perché quando siamo ciocchi ci si arrossa il viso in particolare le persone molto chiare di pelle diciamo questo effetto è amplificato perché passa più sangue dai capillari del volto appunto per colpa della vasodilatazione causata dall'alcol e quindi il viso si arrossa. Bevo un goccio d'acqua perché io mi sto disidratando anch'io. Il secondo motivo per il quale l'alcol ci fa fare tanta pepì è che è un ottimo inibitore della produzione dell'ormone antidiuretico o ADH o vasopressina. Sulla vasopressina diciamo che ne abbiamo parlato già in altre puntate di penescenza però possiamo dire in generale per chi non lo sapesse che appunto l'ADH è l'ormone che quando viene rilasciato non ci fa fare la pepì e quindi scusate mi sono confuso abbiamo un secondo arrivo giusto non ci fa fare pepì quindi inibendo la produzione di ADH veniamo a produrre più urina Altra curiosità l'alcol disseta questo è un altro falso mito perché? Perché l'alcol non disseta affatto infatti siamo abituati a pensare che la tipica bella ghiacciata ce la sgogliamo e ci disseta in realtà l'alcol per quello che abbiamo detto prima è un forte disidratante e mi ricordo che c'era un film forse Fight Club non ricordo qualcuno mi aiuti con i commenti che diceva che appunto morire di per aver bevuto troppo alcol è molto simile a morire di sete nel deserto e questo è assolutamente vero per i due motivi che abbiamo detto prima Altra curiosità è a proposito del vino rosso c'è una diceria che io sinceramente non pensavo fosse letteralmente presa sul serio ma ho scoperto qualche anno fa che è proprio così ovvero che il vino rosso faccia sangue io non avevo mai inteso in senso letterale questo detto ma ho scoperto che ci sono persone che credono davvero che il vino rosso aiuti a produrre più sangue in realtà è esattamente il contrario gli etilisti e in particolare i forti bevitori di vino sono anche dei patrici pazienti anemici quindi fa l'effetto contrario cioè fa produrre meno cellule del sangue poi meno proteine in realtà del sangue poi cellule del sangue quindi non è vero che fa sangue ma fa esattamente il contrario altra diceria è che il digestivo quindi il superalcolico bevuto dopo il pasto faccia digerire per quello che abbiamo detto prima sarà chiaro per voi che questo è esattamente il contrario gli alcolici vanno a danneggiare tutti i fattori utili alla digestione e quindi ovviamente non hanno questo effetto ultimo falso mito che mi è venuto in mente ma se voi ne avete altri da chiedermi siete liberi di farlo attraverso i commenti che l'alcol riscalda questo è diciamo quando noi vediamo un film ambientato in Russia a roba del genere sono tipici utilizzare appunto la vodka o superalcolici del genere per scaldarsi questo è veramente un grande falso mito provocato da dal cinema sostanzialmente perché l'alcol anzi raffredda come abbiamo detto prima l'alcol è un forte vasodilatatore e in quanto vasodilatatore fa perdere tanto calore attraverso le nostre estremità quindi testa piedi mani e perdendo appunto questo calore effettivamente se io mi ubriaco se bevo tanto alcol non avrò un effetto riscaldante nel mio corpo forse avrò una percezione di essere più caldo ma in realtà quello che succederà è proprio l'evento opposto ovvero io perderò tanta nella mia temperatura perché appunto avrò una vasodilatazione che disperderà il calore quindi parliamo un po' di se avete altre domande altre curiosità potete tranquillamente chiedermele che cosa fa l'alcol allora che cosa fa a livello dello stomaco del del fegato l'abbiamo un po' detto prima ma che cosa fa al nostro cervello l'alcol è un disinibitore sociale e questo è molto vero anche a livello fisiologico non è solo una diceria ma anzi è stato dimostrato che va ad aumentare la risposta a un neurotrasmettitore che è il GABA ovvero l'acido gamma amminobuterico che e allo stesso tempo va a ridurre il rilascio di glutammato cosa vuol dire questo in parole povere vuol dire che innanzitutto va a ridurre il nostro la nostra capacità di attenzione e secondo va a darci un senso di intontimento cerebrale e aiuta a disinibirci quindi a eliminare i nostri freni inibitori allo stesso tempo è un forte attivatore del rilascio di dopamina e questo ormai forse lo sapete intuire anche voi che questo è il mediatore diciamo neuronale della soddisfazione della felicità e quindi ci fa sentire allegri quindi questi sono diciamo i principali effetti che possono essere visti in senso positivo o negativo in quanto ad uso e in quanto ad abuso o appunto a etilismo vero e proprio e infatti quando poi andiamo ad aumentare le dosi di alcol che andiamo a bere ovviamente staremo male il giorno dopo quando gli effetti sui nostri trasmettitori saranno inibiti ma gli effetti poi metabolici invece saranno rimasti ancora e quindi ci arriverà la classica sbornia sbornia causata in parte dalla disidratazione come abbiamo detto prima e in parte dall'accumulo di acetaldeide che abbiamo detto prima essere uno dei metaboliti dell'alcol che è fortemente tossica ricordate ancora l'acetaldeide perché a fine puntata ci sarà un farmaco che interagisce con l'acetaldeide che viene utilizzato proprio a livello psichiatrico per andare a curare l'etilismo quindi parliamo un po' di abuso allora abbiamo detto prima che in alcune popolazioni in alcune regioni del mondo l'utilizzo di alcol è accettato in realtà ogni popolazione ha un certo ha in un certo qual modo il suo modo di bere alcolici e possiamo dire che all'incirca in tutto il mondo gli alcolici sono ben accetti certo finché si rimane in alcuni limiti questi limiti non sono sempre uguali e infatti possiamo avere modelli diversi nell'utilizzo degli alcolici in particolare abbiamo un modello europeo-mediterraneo possiamo dire che è detto bagnato e un modello asciutto che invece è più tipico del nord Europa il modello bagnato che è un po' quello che utilizziamo noi anche se negli ultimi anni sta cambiando è un modello che prevede l'utilizzo dell'alcol diciamo durante un po' tutta la giornata a basse dosi per esempio durante i pasti o all'aperitivo ed è un po' l'utilizzo che facciamo noi dell'alcol in questo caso abbiamo è un po' complesso da spiegare però abbiamo un certo tipo di accettazione dell'alcol per esempio è forse quasi ben accetto o non ci fa storcere il naso per esempio vedere un uomo ubriaco a una festa o al ticcio comunque mentre ci dà molto fastidio vedere una donna al ticcio ad una festa questo è dato da un retaggio forse un po' arcaico all'interno del nostro cervello ed è proprio fa parte appunto del modello bagnato che è la nostra modalità di utilizzo degli alcolici che prevede poi l'utilizzo in particolare di vino cosa che non avviene nei paesi del nord d'Europa o in Asia dove esiste appunto il modello asciutto il modello asciutto che prevede l'utilizzo di alcolici in maniera spropositata e soltanto però l'accettazione di questo aumento comunque di questo eccesso nel bere alcol avviene ma soltanto in alcune fasce orarie per esempio durante il weekend o dopo lavoro quindi è normale vedere per esempio una persona che ne so nord europea che beve molto e soprattutto con lo scopo di intossicarsi durante appunto il weekend questa è una cosa è un po' un po' difficile da spiegare e non è sempre vera chiaramente questi sono studi che sono stati fatti in generale chiaramente sono casi e casi però in generale sempre possiamo dire che appunto è un uso completamente diverso che fanno loro dell'alcol rispetto a quello che facciamo noi l'utilizzo dell'alcol possiamo dire in tutta Europa ma anche vabbè più precisamente in Italia si sta facendo negli ultimi anni umido nel senso che sta prendendo in parte sta mantenendo le caratteristiche del del modello bagnato ma in parte sta prendendo anche quelle del modello asciutto quindi per esempio abbiamo un consumo di alcol che è sempre più di un'età molto giovanile quindi un'età che si abbassa sempre di più per età giovanile intendiamo persone ragazzini bambini che arrivano ad ubriacarsi anche intorno agli 11 anni nel weekend quindi cosa tipica per esempio che avviene nel nord Europa e che soprattutto che bevono solamente con lo scopo di ubriacarsi quindi di intossicarsi quello che viene appunto detto binge drinking cosa che di cui tra l'altro abbiamo parlato oggi hanno fatto un commento sul gruppo di dipen di dipen crimini proprio con il binge listening di dipen quindi vi ringrazio anche per questo quindi trasformiamo una cosa terribile in una cosa divertente quindi questa situazione l'utilizzo di alcolici sempre a età minori dove chiaramente non solo non si hanno gli enzimi necessari per metabolizzare l'alcol ma non si hanno neanche le capacità intellettive per riuscire a capire come e quale sia il giusto utilizzo dell'alcol sono dei fattori predisponenti all'abuso di alcolici si diventa quindi etilisti per vari motivi è molto difficile adesso per me farvi una spiegazione di tutti o comunque una lista farvi capire i motivi per il quale le persone diventano alcolisti possono essere più disparati da un lutto da una depressione che può essere manifesta o non manifesta per esempio in Italia l'alcolismo in particolare femminile è un alcolismo molto nascosto quindi delle donne che di nascosto dalla famiglia dal marito dai figli bevono molto magari da sole anzi molto probabilmente da sole senza dire nulla e che ne so in maniera non eclatante quindi magari bevono 3-4 bicchieri di vino in più rispetto a quelli che si bevono a cena prima di andare a dormire quindi nessuno non se ne accorge mentre l'alcolismo maschile è un po' un po' differente dopo vediamo il perché quindi ci sono vari motivi è difficile trovarne uno serio comunque molto spesso prevede un disagio mentale che è fortemente inespresso e che mette soprattutto a disagio la persona e quindi questa persona vede nell'alcol una via di fuga un momento nel quale non pensa al suo disagio e quindi molto spesso finisce per diventare un etilista cosa che avviene anche con le droghe tipicamente questo è un problema vero cioè è un problema sociale è un problema di cui non ci occupiamo perché come detto prima l'alcol è quasi ben visto dalla nostra società ma in realtà all'abuso di alcolici ci sono stati diversi studi nel 2015 c'è stato uno studio in particolare che ha dimostrato che all'incirca 3 milioni di morti l'anno sono causate dall'uso o l'abuso di alcolici e dalle morti con esse connessi quindi incidenti d'auto malattie provocate dall'etilismo eccetera eccetera ma non solo perché ci sono anche diversi omicidi che avvengono appunto per colpa dell'alcol gli alcolisti in generale passano attraverso diverse fasi abbiamo delle fasi diciamo più fisiche con la tolleranza della sostanza in questo caso appunto dell'alcol e quindi inizialmente l'alcolista avrà bisogno sempre più di aumentare le dosi per avere lo stesso effetto di intontitudine che ricerca tipicamente il soggetto quindi l'aumento tipico della dose così come avviene nelle droghe successivamente si avrà un periodo di tolleranza inversa che cos'è la tolleranza inversa è la situazione opposta per arrivare allo stesso punto di ubriachezza il soggetto avrà bisogno di meno dosi questo è un tipico segnale di passaggio che ci aiuta a capire se una persona si sta diciamo ammalando quindi se il suo fegato il suo cervello il suo corpo sta abbandonando si sta ammalando e quindi non è più in grado di sostenere queste quantità di alcolici e soprattutto di metabolizzarlo quindi tipicamente per primo è il fegato fegato che subisce la cirrosi epatica poi magari faremo una puntata a parte sulla cirrosi epatica perché è un problema molto un po' complesso subisce prima una fibrose poi una cirrosi epatica che sostanzialmente non può essere curata se non tramite un trapianto di fegato però questo è un argomento molto vasto di cui parleremo in un altro episodio inoltre non è solo il fegato che viene danneggiato viene danneggiato anche il cervello il cuore si avrà lo sviluppo di ipertensione arteriosa quindi si avrà un maggior rischio di infarto e poi soprattutto subire avere un danneggiamento quale la cirrosi epatica mette a forte rischio il paziente di di insorgenza di tumori del fegato in particolare dell'epatocarcinoma che è un tumore maligno e quindi anche di questo parleremo in quella puntata quindi possiamo dire che l'alcolista ha due vie può o smettere di bere o proseguire nel bere in entrambi i casi la vita dell'alcolista non è facile innanzitutto parleremo poi di come si smette di bere chiaramente non vi darò oggi il non vi dirò oggi il segreto per smettere di bere altrimenti lo avrei già detto a tutti se ce l'avessi ma parliamo di un paziente tipo paziente che inizia a bere magari da giovane magari con dei problemi socio-economici che poi diventa etilista quindi subisce un danneggiamento sia sociale che a livello del suo fisico e quindi ha due possibilità o continua a bere o smette l'alcolista che smette di bere subisce una vera e propria sindrome di astinenza sindrome di astinenza che è nota con il nome di delirium tremens il delirium tremens è una situazione nel quale il soggetto sta malissimo chiaramente ha una sensazione di confusione totale con perdita di contatto con lo spazio e col tempo ci sono dei tremori e una forte agitazione del soggetto e molto spesso si sviluppano poi delle allucinazioni in particolare visive queste allucinazioni sono generalmente di due tipi perché siano proprio di questi due tipi io non ho trovato una risposta a questa domanda però la cercherò e nel caso ve la dirò nel prossimo episodio le due allucinazioni più tipiche sono le microzootiche scusate sono un po' incasinato c'ho la lingua felpata microzootiche ovvero è quella sensazione quella allucinazione per il quale vedo degli insetti che mi salgono addosso e questo mette ancora di più in agitazione chiaramente il soggetto che già stava male l'altro tipo invece di allucinazione è un'allucinazione di tipo lilipuziano nel senso che molto spesso i soggetti affetti da delirium tremens vedono per esempio animali molto grandi come un elefante o un ippopotamo ma di statura minuscola molto spesso lo vedono come una minaccia capiscono che c'è qualcosa che non va quindi questo è sempre una cosa che aumenta il loro stato di ansia oltre a questo proseguendo con il delirium tremens avremo un delirio di tipo occupazionale ovvero il soggetto tenderà a ripetere per esempio alcuni movimenti in maniera stereotipata in maniera incontrollata più tipicamente quelli che fa durante le ore di lavoro per esempio e questo è un altro di quei segnali che appunto aiutano lo psichiatra o chi per esso a capire che appunto siamo in una situazione di delirium tremens la risoluzione di questa crisi è appunto una risoluzione per crisi scusate il gioco di parole risoluzione per crisi ovvero un sonno molto profondo che dura in circa una settimana quindi stiamo parlando di diversi giorni è una risoluzione che non sempre è positiva nel senso che questo sonno prolungato ha una mortalità abbastanza alta intorno al 10% quindi una mortalità alta si parla di mortalità alta quando siamo fate conto che per darvi un ordine di grandezza le grandi operazioni che hanno una mortalità alta ce l'hanno intorno al diciamo tra il 5 e 7% quindi siamo al di sopra di questa soglia anche nel caso però che il paziente sostanzialmente si risvegli da questo sonno profondo non si avrà la cosiddetta restituzione ad integrum la restituzione ad integrum è appunto quando ritorno ad avere tutte le funzioni che avevo prima quindi con un torno sano in tutto e per tutto infatti avremo due tipi di problematiche di psicosi una è l'encefalopatia di Wernicke che è data tipicamente da un danno da carenza di vitamina B1 quindi questo è uno dei motivi per il quale vi ho fatto prima il pippone biochimico il problema dell'assorbimento delle vitamine è un problema fondamentale e poi avremo la psicosi di Korsakov psicosi di Korsakov che invece è un deficit di vitamina B12 adesso non sto a raccontarvi tutte le problematiche di queste psicosi perché non sono per niente divertenti ma sostanzialmente vi dico giusto due cose che per esempio la psicosi di Korsakov è una situazione nel quale il soggetto continua a confabulare quindi avrà delle problematiche di Dora ti rispondo finisco un attimo qua con la psicosi praticamente il soggetto dopo che si sveglierà da questa sorta di coma di sonno profondo avrà delle forti amnesie amnesie anterograde quindi fino a un certo punto nel passato si ricordano tutto ma oltre quel punto avranno dei buchi questi buchi vengono riempiti con dei falsi ricordi quindi il soggetto è convinto di ricordare qualcosa che però in realtà non è mai successo e molto spesso questo ricordo è di tipo persecutorio nei suoi confronti quindi questi falsi ricordi molto spesso portano un'ulteriore problematica a livello psichiatrico nel paziente che si risveglia da questa sorta di coma e poi avremo tipicamente dei falsi riconoscimenti ovvero la cosa più tipica è che il medico che assiste questo paziente verrà scambiato da quest'ultimo per un parente e questo può essere anche visto in un certo senso come un fattore positivo perché questa persona si fiderà del proprio medico considerandolo un parente e questo aiuterà in parte il paziente stesso ad essere aiutato scusate anche qui il gioco di parole allora Dora mi chiede se ho spiegato come si distingue l'etilismo forte dal consumo abituale no non l'ho spiegato e te lo dico adesso in realtà non c'è una nettissima linea di confine ti posso dire che in ospedale quando facciamo la cartella clinica si chiede appunto una sezione dedicata alla cartella clinica che è detta POTOS POTOS che se non sbaglio in latino vuol dire inumidire tipo dar da bere e quindi adesso non vorrei dirvi una vacata andate a cercare così mi smentite in live però appunto il POTOS è relativo sono gli usi che fa il paziente dell'alcol tipicamente si chiede al paziente se si ricorda quando è stato l'ultimo giorno che non ha bevuto se già vediamo che il paziente ha difficoltà a ricordare un giorno in cui non ha bevuto quello è un forte segnale che il soggetto probabilmente è un etilista è molto difficile eseguire questo tipo di indagine anche perché come vi ho detto in tante puntate di penscienza i pazienti tendono a mentire non tanto perché sono cattivi alcuni mentono proprio palesemente per esempio alcuni uomini anziani che gli fai la cartella davanti alla moglie mentono spudoratamente lo fanno sia con l'alcol sia con l'utilizzo per esempio di tabacco altri invece mentono inconsapevolmente nel senso che tipicamente l'etilista ma anche un po' chiunque anche il forte fumatore tende a sottostimare l'utilizzo che fa della sostanza quindi se chiedete a uno che fuma due pacchetti al giorno gli chiedete quante sigarette hai fumato oggi alle 8 di sera vi dirà ma ne avrò fumate una decina in realtà ne ha fumate 25 non è una cosa molto facile sì a volte per pudore d'ora a volte perché proprio vogliono mentire a volte perché hanno una specie di bias cognitivo che ti fa propendere verso la tua salvezza diciamo etica no anche dei bias cognitivi parleremo in un'altra puntata comunque se un paziente in una settimana tendenzialmente tutti i giorni ha bevuto alcolici e ne sente il bisogno viene considerato un etilista quasi indipendentemente dalla quantità di alcol che beve bella domanda ad ora grazie quindi dicevamo che il paziente etilista ha due possibilità o smetti di bere e va incontro alla crisi di astinenza oppure continua a bere dopo che vi ho raccontato appunto la crisi di astinenza e il delirium tremens forse verrebbe quasi spontaneo dire vabbè forse è quasi meglio continuare a bere in realtà no perché continuare a bere non solo distrugge il fisico dell'etilista ma porta anche a diverse problematiche psichiatriche per esempio il delirio persecutorio che è abbastanza tipico dell'etilista nelle fasi diciamo tardive nel delirio persecutorio il soggetto sostanzialmente ha delle allucinazioni in questo caso uditive allucinazioni uditive che non solo sono una problematica sociale nel senso che il paziente non sa se queste se queste voci che sente sono reali o no il problema poi ulteriore è che questo queste voci molto spesso sono delle voci di accusa verso il paziente stesso cioè lui sente delle voci che lo accusano o che comunque sono ostili verso di lui e questo spaventa molto il soggetto che spaventerebbe chiunque ci mancherebbe altro molto spesso quindi sono ostili o comunque sono note di biasimo cioè e questo tende ulteriormente a non far smettere il paziente perché per smettere di sentire le voci si ubriaca e così si continua il circolo vizioso inoltre un'altra cosa tipica dell'etilista è il delirio di gelosia ora ho trovato fonti discordanti però mi fido molto di più del primario di psichiatria che ha fatto le lezioni da cui ho preso diciamo che ho preso come fonte per questa puntata che è la mia professoressa di psichiatria quindi delirio di gelosia tipico nei maschi che causa un aumento un forte aumento della libido tipicamente gli alcolisti quindi secondo la mia fonte di cui mi fido abbastanza ciecamente ho trovato altre fonti invece che dicevano che c'è un calo della libido in realtà non è proprio così nel senso che c'è un calo della prestanza sessuale quindi il paziente sarà sostanzialmente impotente allo stesso tempo però avremo un aumento dell'eccitazione diciamo psicologica quindi della voglia di avere dei rapporti che però chiaramente essendo concomitante a un'impotenza sessuale causano una forte frustrazione nel soggetto questa forte frustrazione porta a sua volta a una gelosia e a un delirio di gelosia del soggetto tipicamente nel maschio l'aumento di eccitabilità sessuale è tipico anche nella donna ed è tipico anche di diverse altre problematiche psichiatriche come soggetti borderline o vabbè adesso poi ne parleremo nelle puntate specifiche ma quindi il soggetto che vuole avere dei rapporti ma non riesce ad avere dei rapporti è tilista quindi già con tutte le problematiche adesso associate tende a pensare che la donna abbia degli altri uomini dato che lui non riesce a soddisfare la propria donna a quel punto la donna andrà a cercare altro questo non è vero o meglio possiamo dire che è una invenzione abbastanza tipica del soggetto non dico che le mogli degli etilisti in assoluto non possono avere amanti però molto spesso sono delle fantasie del soggetto e purtroppo però questo molto spesso può portare a violenze domestiche nonché a uxoricidio quindi l'ucisione della della moglie questo è diciamo il quadro tipico dell'alcolismo maschile l'alcolismo femminile come detto è molto diverso è un alcolismo più diciamo introspettivo un alcolismo molto più che sfocia meno nella violenza verso il partner e molto più nella depressione per esempio questi sono tutti aspetti che poi si associano ad altre malattie sempre psichiatriche esistono però non disperate se c'è qualcuno che beve troppi alcolici e che mi sta ascoltando in questo momento parte le vaccate di di intrattenimento vorrei che questa puntata fosse anche utile per qualcuno ci sono i modi per uscirne i modi per uscirne sono molto 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 banalmente andare a parlarne con il proprio medico di base che vi indirizzerà verso le possibili vie di uscita esistono infatti delle terapie oggi ve ne accenno qualcuna se seguite di pencienza da un po' sapete che non sono un amante del dirvi le terapie questo perché non so un po' per mia etica personale sono molto contro all'autodiagnosi su google e vorrei che queste puntate di pencienza non vengano utilizzate per questo scopo ma a scopo informativo e diciamo ludico un po' per divertimento un po' per cultura quindi non vorrei che prendesse queste mie parole per farvi l'autodiagnosi però in questo caso alcuni farmaci sono molto interessanti perché hanno sfruttato appunto la biochimica di cui vi parlavo prima farmaci vabbè chiaramente vengono utilizzate le benzodiazepine che sono dei farmaci che non voglio approfondire con voi in questo momento specialmente ma vi voglio parlare di un farmaco in particolare che viene molto utilizzato che è il disulfiram che è interessante perché va a sfruttare appunto la produzione dell'acetaldeide di cui vi ho parlato a inizio puntata l'acetaldeide è una sostanza abbiamo detto molto tossica e questo è sempre in altre puntate di Prenscienza avevo detto che molto spesso il metabolismo nel andare a eliminare una sostanza produce delle altre sostanze che molto spesso sono anche molto più tossiche di quello che dovevo eliminare ma magari sono più facilmente eliminabili o magari rimangono all'interno del corpo talmente poco che non sono in grado di provocare danni in questo caso il disulfiram va a bloccare l'enzima acetaldeide dei idrogenasi quindi non si passa non prosegue il metabolismo dell'acetaldeide e quindi l'acetaldeide si accumula accumulandosi va a provocare delle sensazioni molto molto sgradevoli nel paziente che continua a bere quindi nel caso è una sorta di non so mi fa pensare un po' ai collari quelli che mettevano ai cani per addestrarli che quando abbagliavano gli davano la scossa e il senso è un po' quello non è sicuramente qualcosa di piacevole ma se il paziente in via di disintossicazione beve a quel punto subirà appunto una forte nausea sentirà una forte cefalea forte mal di testa e soprattutto vomito quindi tutte delle sensazioni negative che aiuteranno ad associare un senso negativo alla sostanza e quindi pian piano a tentare di abbandonarla esistono esistono delle terapie diciamo comportamentali e diversi gruppi che aiutano gli alcolisti a smettere di fumare esatto tipo lo smalto per smettere di mangiarsi le unghie dice Matilde sì però in modo molto più violento esistono quindi alcuni gruppi come gli alcolisti anonimi e il CAT che è il centro alcolisti in trattamento che hanno sostanzialmente adesso non so se è pippolario ancora con queste robe comunque sappiate che esistono questi gruppi hanno due filosofie molto diverse per gli alcolisti anonimi diciamo l'alcol è visto come una problematica sia del soggetto ma anche della famiglia e quindi non so come spiegarvi è un po' complesso nel senso che per gli alcolisti anonimi il soggetto etilista è un po' vittima della sostanza nel centro alcolisti in trattamento la filosofia è un po' differente il fatto sta che su tagliamo la corta esistono anche questi gruppi che aiutano appunto l'alcolista a uscire da questo oblivio quindi ragazzi se non avete domande io spero che termine scusate terminerei qui la puntata perché sono veramente devastato stamattina ho dormito tipo due ore penso che si sia notato per i diversi impappinamenti di questa puntata spero che non me ne vogliate per questo sicuramente nel prossimo episodio sarò più fresco quindi se avete qualche domanda fatela adesso io nel frattempo vi suggerisco di andare a mettere una fantastica recensione su apple podcast per aiutarci a farci scoprire vi dico anche che ci sono oggi ho sentito molto molto carico palla per diverse novità che vogliamo portare su Deepen anche perché siamo abbastanza vicini al raggiungimento della cifra d'acquisto del computer che questo porterà diverse migliorie Dora ringrazio te per avermi seguito fino ad ora e quindi niente ragazzi visto che la puntata è già molto lunga io vi saluto e ci sentiamo nel prossimo episodio ciao 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 ciao